Ciao a tutti, Marilyn Monroe era estremamente seducente, come faceva? E questo è un insegnamento utile a tutte le donne. Intanto diciamo questa cosa qua fondamentale che Marilyn faceva la bambola, faceva l'oca ma non era un'oca. E questo è il primo punto. Il secondo punto che dobbiamo prendere in considerazione è che aveva obiettivi chiarissimi. Lei era una donna estremamente logica, iperlogica, al di là poi delle vicistudini personali che ha avuto, però è stata una donna che ha saputo, diciamo, pianificare esattamente passo per passo la sua seduttività. Non era una seduttività improvvisata. Quando un giornalista famoso le chiese, ma come mai di lei non si innamorano mai, o lei non si innamora mai di persone normali, comuni, si innamora solo di presidenti, persone famosissime, ricchissime, e lei disse, beh, io gli altri neanche li prendo in considerazione. Non potrò mai innamorarmi di una persona normale perché con una persona normale manco ci interagisco. Normale inteso nel senso di non famosa. Quindi lei, al di là di ogni giudizio morale, qua non c'entra il giudizio morale, lei aveva definito bene il suo target. E questa è una cosa importante. Se noi dobbiamo definire un target, dobbiamo frequentare persone che siano connesse con quel target. E quindi frequentare ambienti che siano connessi con quel target. Se mi interessa una donna intellettuale, difficilmente andrò a cercarla in una sala da ballo. Non perché in una sala da ballo non ci possa essere una donna intellettuale, ma perché, come dire, statisticamente ce ne sarà una ogni chissà quando. È difficile, no? Puoi andarla a trovare. È molto più semplice frequentare dei posti dove, che ne so, ambienti intellettuali, dove ci sono conferenze, incontri, e lì è più facile trovare, diciamo, persone di un certo tipo, piuttosto che di un altro tipo. Se cerchi, diciamo, l'avventura, è meglio andare in luoghi dove è più facile trovarla rispetto a luoghi dove è più difficile, insomma. Nella parrocchia dell'oratorio, della chiesa, magari è più difficile trovare donne che vanno in cerca di avventura. Mentre invece, magari è più facile trovare donne che vogliono mettere su famiglia, per fare un esempio. Quindi noi dobbiamo definire un target e questo è già seduttivo. Perché viviamo in un mondo talmente vasto, pieno di stimoli, pieno di persone, dobbiamo focalizzarci sul target che ci interessa. Questa è la prima cosa. Quindi se tu vuoi sedurre, devi capire che tipo di persona ti interessa e cercare di trovare un modo per frequentare quegli ambienti. Se tu sei, come dire, non appartieni al jet set e vuoi trovare un uomo di quella cosa lì, di quel giro, per fare un esempio, devi trovare il modo di entrare in quell'ambiente. Quello hai fatto già la seduzione. Questo è fondamentale. Noi, spesso le persone vanno così, escono, vanno, vanno in giro, dovunque capiti. Certo, come dire, gli eventi poi possono capitare. Tu puoi trovare la persona che cerchi da qualunque parte, ma è evidente che una cosa fondamentale è non perdere tempo. Quindi se una persona poi non corrisponde al tuo target, al tuo obiettivo, al tuo desiderio, non devi perdere tempo. Questo fa già un buon 50% della capacità di seduzione di Marilyn. Marilyn, le persone che non appartenevano a una certa cerchia, non le prendevano neanche in considerazione, non ci perdevano neanche un secondo. Poi la seduttività è la capacità di adattarsi al tipo di personalità che è davanti. Una volta che hai trovato una persona che a livello logico soddisfa quelle che sono le tue esigenze, devi passare su un piano emotivo. Intanto farti accettare prima su un piano logico e razionale, quindi andare a, diciamo, a farti vedere anche come la donna giusta, sapendo fare l'attrice, fondamentalmente. perché un bravo comunicatore è un bravo comunicatore, una brava comunicatrice è una brava comunicatrice. Se tu, dicono la spontaneità, se tu ti comporti come ti viene per dire, non sai seduttrice. anche perché poi saresti spinta da impulsi che non riesci neanche a governare, che non riesci neanche a controllare. Quindi bisogna calibrarsi sulle esigenze dell'altra persona, non sulle esigenze logiche, ma sulle esigenze emotive. E quindi per questo è importante che ti fai vedere tutti i video che ho fatto anche sul canale Felicità Benessere del linguaggio non verbale, perché attraverso il linguaggio non verbale tu puoi capire quali sono le caratteristiche emotive di una persona e quindi mettere in atto un comportamento tale da soddisfarle. Anche magari andando a penalizzare la parte logica, anzi è molto probabile che dovrai penalizzare la parte logica, facendo vivere abbandoni, rifiuti, disestime, eccetera, eccetera. Questo è quanto devi fare. Marilyn aveva questa grande capacità, lei si adattava, lei sapeva fare la donna, come dire, bambina, sapeva fare la donna capricciosa, sapeva fare la donna determinata, sapeva fare la dominatrice e la dominata. Sapeva presentarsi sensuale, andare a soddisfare anche i turbamenti più reconditi delle persone. Basta leggere la sua biografia e si capisce come sapeva adattarsi alle esigenze emozionali degli uomini che le interessavano. Ognuno di questi la vedeva in modo completamente diverso. Questa era veramente la sua bravura. Potremmo dire che aveva la capacità camaleontica di andare a incarnare le fantasie, i turbamenti, le emozioni più turpi delle persone che le interessavano. È per questo che le seduceva. È per questo che le conquistava. E faceva tutto questo lavoro. Perché poi era una ragazza carina, ovviamente, per carità. È ovviamente lo che vuole la sua parte. Ma non era questa fine del mondo. Era piccolina. Era, insomma, non aveva niente di che. Da un punto di vista di una bellezza, potremmo dire, canonica. Però, come si muoveva, come si sapeva fare, le emozioni che sapeva suscitare, era, questa è la seduzione di Marilyn. Quindi devi adattarti alle esigenze emotive della persona che ti interessa. Ma prima, hai già fatto il 50% della seduzione, devi entrare in contatto con la persona che ti interessa. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale. Iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto i link in descrizione. Ciao.